Tutti gli anni, in questo periodo di marzo, viene fatta la settimana del glaucoma. Questo è per richiamare l'attenzione dei cittadini su questa patologia così insidiosa. Insidiosa perché il paziente non si accorge, non ha sintomatologia. O quando ha sintomatologia, purtroppo, è troppo tardi, il danno si è restaurato. È definito il ladro silente della vista perché spesso non dà sintomi. Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che colpisce il nervo ottico. Interessa circa il 2% della popolazione e se non diagnosticate trattata in tempo può portare alla cecità. Il glaucoma è considerata la pressione alta dell'occhio, quindi una pressione non adeguata, una pressione che va oltre la norma e quindi va studiata la situazione per vedere quali terapie è staurare. Purtroppo non c'è solo il glaucoma ma spesso questi pazienti, questi soggetti hanno una pluripatologia. Dal 10 al 16 marzo si celebra la settimana mondiale del glaucoma. L'Asla Toscana Sud-Est ha aderito all'iniziativa mettendo a disposizione delle persone interessate la possibilità in tutte e tre le province di sottoporsi a visite gratuite. La parola chiave è prevenzione, quindi i nostri ambulatori sono aperti per fare una visita completa sull'ambito di tutta l'azienda, sull'Asla Sud-Est, basta telefonare al CUPTEL per prenotare una visita completa e le terapie ci sono, quindi si tratta di colliri, di laser, eventualmente se è proprio necessario di interventi, l'importante è arrivare presto. L'iniziativa si rivolge a soggetti sopra i 40 anni di età che non sono in terapia e non hanno fatto visite oculistiche negli ultimi due anni.